GIL GIL Grazie, voglio sentanto parlare! No, 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 no. GIL Luca Che cazzo vuoi? Sei stato tu, eh? No, no, no! No, no! Eh, eh! No, 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 no! E io, i poliziotti che dite la verità? Che cazzo vuoi fare, eh? Ti vuoi rovinare? Tu cazzo vuoi? Tu lo sai quello che ho passato io. Per favore, G, facciamo una cosa. Andiamo a casa, ne parliamo con calma lì, eh? Va bene, dai, non ti metti nei casini che ce n'è già anche troppi, dai. Andiamo. Cosa, mi vuole lasciare un po' della merda, eh? Dopo quello che ho fatto? E così, è un ricatto, eh? Mi stai ricattando, eh? Eravamo dei bambini. Abbiamo fatto una cazzata. Non è la colpa di nessuno. E nessuno ti aveva chiesto un cazzo a te. Fammi una cortesia. Sparisci, non ti fa più vedere. Stronzo. Non si doveva fare un patto stasera, eh? Va, fa' un culo, va. E adesso come fai a far carriera?